Musica Ragazzi andiamo allora verso il prossimo ricordo Ho fissato qua un attore del Borgia ma Evidentemente sono una persona che vuole fare le cose troppo di fretta E quindi non è ancora raggiungibile Allora buona Ma i corrieri ci sono ancora E si possono abbattere ma vaffanculo è sul tetto Allora no Beh di sicuro Roma è un pochino più smooth rispetto Alla Firenze di Assassin's Creed 2 Tanto poi ragazzi tutti i nodi verranno al pettine Questa è una piazza famosa di Roma Che non ricordo al momento Questa è palesemente piazza del popolo O fatemi controllare Eh sì le due chiese ragazzi questa è piazza del popolo Intanto parliamo con questo tizio Era bellissima Lo era Perché quel porco non l'ha violata Perché non l'ha soltanto uccisa Perché non l'ha soltanto uccisa Beh si potesse salvare Hanno applaudito Quando l'ha sputato addosso Hanno sorriso Quando si Posso capire Come potresti La mia Livia era innocente Anch'io ho perduto persone care così Per tradimento Il carnefice osserva dalla sua casa sul colle Minaccia di impeccarmi Se la depongo Ottima esecuzione Tipo la nostra verso quel tizio Deponila Ci penso io Al carnefice E poi andremo anche dal pescefice No Vabbè comunque Un attimo La fronte del carnefice Uccidi il bersaglio con la macelata Ok vabbè La sincronizzazione totale È ancora abbastanza semplice Per adesso Poi Vedremo in futuro cosa ci riserverà Anyways Ok è lì Si potrebbe Assassinare volendo Fatto di meglio Ma la materia prima Ste zanzare del cazzo Boom Easy Easy pisissimo ragazzi Vabbè Ripeto Siamo le prime missioni Sti cazzi Requiescati in pace Ah proprio così Senza arte né parte proprio Sembra ancora vivo Ancora gli occhi aperti Ora andiamo Presto sta scappando Via 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 qua potrei andarvi in culo E fare così Eh sti qua Sti qua sono piuttosto Di quel che pensassi Ma dal punto di vista Del punto di vista della rincorsa Ragazzi Dicono la loro Vabbè dai oh Gli ho seminati Dai 150 fiorini 100% di sincronizzazione Vabbè ragazzi Dai è stata Una cagata pazzesca Come diceva qualcuno Vabbè ragazzi